Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua, non ci credo pure tu, chiuso dentro la tv, chiuso... Oh, vedi? Io cercavo di dimenticare... Allora, leggiamo le vostre mail, i vostri SLS e le cose che voi mi mandate. Ciao G, siamo un gruppo di ascoltatori Roccastradini. Roccastrada ho fatto strage, vero? Grazie per averci ricordato ogni tanto. Ebbè, qualcuno di voi mi scriveva, ma se va in ferie perché non viene a trovarci? Il 25, 26, 27 luglio abbiamo la sagra della patata. La patata, la patata, oh yeah! Patrocinata addirittura dalla FAO e dall'ONU, pensate, la patata. Essendo il 2008 l'anno internazionale della patata. Ah, io credo che per me sia sempre stato l'anno della patata. Vabbè, insomma, facciamo una cosa internazionale e ti aspettiamo. Se vieni faccelo sapere per tempo anche con questa mail. Ciao, sei grande, ti seguiremo anche su Toscana TV. Oh, dignene. Ecco, il nostro sito è bello, no? Hanno sito www.ciaotoscana.com Pesaro, sì, e poi tutto sagra della patata. Sì, sì, vabbè. Guarda, io ci vorrei molto volentieri, perché la patata mi ha sempre attirato. Quindi io la verità, si doppi i sensi, no? Che poi la patata da noi, da noi, cioè è una cosa che abbiamo un po' importato, questo modo di dire la patata, no? Lui si dice un'altra cosa, eh? E dove che si dice? La ciala, per esempio. Oh, sì, no, ma la sagra e la ciala non la fanno, nemmeno la formica. Dunque vorrei dire, purtroppo non sarò qui, capito? 25, 26, 27 luglio, non so, non ci sono. Se no, magari, magari facciamo così, se la fate il prossimo anno, per tempo, magari potremmo venire a fare un... Tanto è un bello spettacolo, eh? 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 Fatemi sentire. Comunque è andata anche così. Come vedete, in qualche modo, io ho fatto un po' di pubblicità a questa sagra, no? Eh, l'importante è quello, perché c'è la FAO e poi l'ONU, che patrocinano, no? Eh, bah, dignene, bah, vabbè. Comunque, buona patata a tutti, insomma. E vabbè.